Il cartodromo di Contrada Zaia Gela, versa in stato di abbandono, chiuso da anni, è divenuto un vero e proprio ricettacolo. Considerata l'ottava pista nazionale la prima del sud Italia, vederla ridotta in quel modo, ha spinto i componenti della sezione Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, a organizzare un sit-in di protesta. Ma come mai il cartodromo è ridotto in queste condizioni? Dovremmo girarla questa domanda a chi è stato presidente della provincia regionale di Caltanissette, e per lungo tempo due gelesi, e capire per quale motivo questa struttura che doveva, ed è stata, ed è nata come una delle strutture più grandi del meridione d'Italia, è ridotta a discarica di amianto ed è ridotta a scuole guida senza nulla contro le scuole guida. Però certamente questa struttura non è nata né per essere discarica di amianto, come avete benissimo ripreso, né per fare la scuola guida. Questa struttura è nata perché doveva servire non solo al territorio, come un rilancio economico di questo nostro martoriato paese, ma quindi avere un pochino quelle finalità che un cartodromo con lunghezza e dimensioni del genere avrebbero dovuto avere e che non hanno. Sindaco, visto che ora sei il primo cittadino di questo paese, sei pregato di attivare tutte quelle procedure affinché il cartodromo, che è struttura provinciale, assieme al pala Livatino, diventino strutture comunali, perché in questa maniera si andranno a perdere, ormai sono in preda al degrado più totale e più assoluto. Chiediamo che immediatamente venga rimosso l'amianto e la pista venga utilizzata per gare internazionali. Ricordo a tutti che la pista ha una lunghezza di ben 1260 metri con una larghezza di 8, per cui qualsiasi gara a livello internazionale nel territorio di Gela è possibile farla. Questa attirerebbe centinaia, anzi migliaia di turisti che portano sviluppo e occupazione. Domani Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale presso i muretti di Machitella, continuerà nella raccolta delle firme al fine di aprire i cantieri dell'autostrada Gela, Ragusa, Siracusa.